Ciao, sono Fabrizio Delia e questo è UnControl. È un podcast che rivive le esperienze più imprevedibili degli artisti raccontate dai protagonisti. In questo episodio ascolterete l'esperienza di Jaspers, rock band milanese. Il nome della band è ispirato al filosofo e psichiatra Carl Jaspers, nome che rappresenta la foglia artistica e personale di ogni singolo componente. Dal 2017 al 2021 i Jaspers sono stati la band ufficiale della trasmissione di dei due Quelli che il calcio. Durante il loro tour la band ha condiviso il palco con grandi artisti come The Skin Dread, i Lacuna Coil, i Lira 77 e moltissimi altri. Il loro ultimo singolo si chiama Rockstar, brano che anticipa l'arrivo di un nuovo album previsto entro la fine del 2021. Eros e Eric dei Jaspers siete due rappresentanti della band. Raccontatemi di quella volta in cui eravate su un palco che, insomma, ci spiegherete, è successo qualcosa di totalmente imprevedibile, se posso permettermi, anche un po' splatter. Quindi, piccolo disclaimer per le persone che ci stanno ascoltando, se siete facilmente impressionabili, tenete presente che c'è un poco poco di splatter ci sarà in questo episodio. Ma non aggiungo altro e vi lascio raccontare questa storia. Sta arrivando Tarantino, Eros, vero? Sembrava di essere su un set di Tarantino, ragazzi. Esatto. No, è partita, inizi un po' a dirla. Inizi tu, vai. Qui la cosa non controllabile forse è uno dei componenti dei Jaspers, forse tutti o forse uno più di altri. Comunque non si può controllare tutto, soprattutto sul palco dei Jaspers. Eravamo a Vercelli, quindi in Piemonte, all'Officine Sonore, un locale, e è stato, credo, il concerto più breve della storia dei Jaspers. Perché siamo andati lì per fare un concerto intero, ovviamente, quindi il nostro show classico, ma credo, Eros, che abbiamo fatto due pezzi. Tre pezzi, forse. Il fattaccio è accaduto al terzo pezzo, secondo me. Quindi, ovviamente, palco classico, qui con tutta la nostra roba, poche luci. Il cantante nostro, Fabrizio, è solito saltare a destra e sinistra del palco. Proprio come non ci fosse un domani. Solo che stavolta, vicino, è andato vicino al tastierista, vicino al tastierista c'era il reggi basso, quindi dove appoggio il basso. Quindi io, diciamo, colpa mia no, colpa sua. Non si sa questa... Cioè, bisogna fare la constatazione amichevole ancora. Va chiarita questa cosa, la dinamica. Comunque, fatto sta, c'era il reggi basso, vicino alle tastiere. Lui saltando, salta, 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 finché atterra proprio sul reggi basso col piede. E te dice, vabbè, comunque ha le scarpe. No, perché Fabrizio è solito suonare, esibirsi a piedi nudi. Ok. Quindi, a piedi nudi, non è che dite pesta il reggi basso. Proprio se lo infilza sotto al piede, proprio infilzato. Cosa succede? A quel punto, un malatroce, alza il piede, si stacca un pezzo di reggi basso, quindi un pezzo di plastica con la gomma, quella che protegge il pezzo di plastica. Quindi lui va al piede, gli usciva un pezzo di plastica nero. Da lì inizia a uscire sangue, a non finire. E qui va avanti Eros perché non riesco più ad andare avanti neanch'io. E praticamente io sono lì che suono, bello carico, preso bene, luci, un po' di sano rock'n'roll. Mi giro e comincio a vedere la striscia di sangue sul palco. E vedo che fa un percorso verso poi il retro, dietro il palco, verso i camerini. E non ho capito cos'è successo. Cioè non ho realizzato che cosa stava succedendo. Andiamo avanti a suonare un po', per un certo punto vedi il sangue, vedi E, ci fermiamo. Vado dietro al palco e vedo Fabri che, ragazzi non sto scherzando, c'è successo veramente, si toglie coi denti, ma mi dovete veramente credere, altro che cast away film. Si prende il piede così, addenta, tac, e si stacca. Ovviamente staccando il perno o quello che era, c'era la fontana di Trevi. Quindi che cosa è successo? Il concerto interrotto, perché non è che puoi andare avanti. Quindi il concerto interrotto, ambulanza, arriva e va in ospedale. Fortunatamente il nostro cantante è salvo, ce l'abbiamo ancora, eccetera. Chiaramente lui è sempre salta, fa di tutto. Quella sera lì, posso dirlo perché mi ha detto che posso dirlo, aveva bevuto un bicchierino. Ok, beh ci sta, ci sta, ci sta. Quindi ci sta, assolutamente. Questo qua, questa cosa ci fa ritornare al concetto che è sempre meglio suonare completamente sobri. Sì, oppure con le scarpe. Qualcosa deve avere sotto controllo, o il piede o la bevuta. Ma questo pezzo di plastica è la cosa veramente schifosa. Avete presente le viti? Cioè hanno una parte lineare e poi il cappuccio. Quindi il cappuccio era entrato proprio dentro. Questo per entrare sempre molto nei dettagli, diciamo. Non era diciamo un cilindretto. No, dentro si era proprio infilata la testa di questo cappuccio, ragazzi. Cioè aveva un buco tipo un dito, eh. A me la cosa che mi fa impazzire di tutto ciò è che voi ne parlate sorridendo, proprio come se fosse una cosa assolutamente ultradivertente. Io soltanto immaginare la scena, sto male. Quindi immagino che lì per lì anche per voi sia stata un'esperienza, come dire, un po' surreale. Ma sì, all'inizio proprio non capisci cosa sia successo. Poi vede anche il sangue e diceva, ma come ha fatto a farsi male? Guarda il palco e dici, non è che c'era roba. E dopo alla fine vedi sto pezzo che manca e... Però ovviamente, siccome è finita bene, tu diciamo, Fabri sei sempre il solito, cioè nei combini, salti, sei scatenatissimo. Lì, diciamo, non è stato sotto controllo in quel senso lì. Però dai, in realtà comunque è così. Peccato per il concerto più corto della storia di jazz, spesso. Sì, infatti eravamo presi bene, c'erano anche dei bei suoni, eravamo carichissimi, è successa questa cosa. Tra l'altro, ci tengo a sottolineare che Eric ha voluto il risarcimento del reggibasso. L'ha dovuto sistemare lui a sue mani, rimettere il pezzo, pulirlo. Disinfettarlo. E adesso comunque, tutti i live, io, partiamo che ci sono gli strumenti sul palco, iniziamo, tolgo il basso, me lo metto. Lui la prima cosa che fa è prendere il reggibasso e lo sposta dietro al palco, sempre, tutt'ora. Perché ho ancora quello, eh. È rimasto il trauma, quindi. Chiaro. Eros, mi dicevi che in realtà Fabrizio ha l'abitudine di andare praticamente sempre scalso. Sì, lui diciamo che vuole vivere questa vibrazione del terreno, quindi dovrebbe spiegarla meglio lui, ma in qualche intervista ogni tanto lo spiega. Quindi non mi azzardo a entrare nella spiritualità della faccenda. Però effettivamente lui ama, anche in un contesto urbano e suburbano e metropolitano, viaggiare senza l'ausilio di scarpe, pantofole o qualsiasi altro involucro per il piede. Gli piace il contatto con il terreno, allora gli piace anche il contatto con il palco, con anche tutto quello che può esserci su un palco. Perfetto. Che cosa? Possono essere i chiodi, può essere qualsiasi altra cosa che non sto qui a citare, però insomma. Vero, vero. Assolutamente. Però veramente quel rigolo di sangue che correva fino al backstage. Quella veramente scena è tipo thriller che segui le impronte. Sì, io mi sentivo pollicino, solo che invece che esserci il pane e le cose, seguivo là. Io non l'ho guardato quando si è staccato tutta la roba, quella roba lì è veramente troppo forte. Però come ho detto io, Castaway sicuramente rende un po' l'idea del con cosa l'ho fatto con una pinza e detto no, piuttosto coi denti. Sì, perché giustamente lui ha pensato la pinza potrebbe essere veicolo di virus e batteri, quindi giustamente è sicuramente più sporca della mia bocca. E quindi ha addentato. Ha addentato in modalità velocirattore e ha estratto la pepita. Ma poi mi ricordo adesso il pubblico che era rimasto lì comunque tutta la sera per aspettare il cantante che tornasse dall'ospedale. Quindi erano tutti lì, abbiamo fatto amicizia, poi alcuni li sentiamo ancora. È vero. No, ma allora quando torno aspettiamolo, aspettiamo che almeno dobbiamo abbracciarlo, queste cose. No, è vero, è vero. C'era parte del pubblico che era rimasta lì per capire l'evolversi della situazione. Alcuni speravano che riprendessimo a suonare, ma veramente era poi passato il tempo. No, anche perché voi dovete immaginare, è vero che a Vercelli c'è sicuramente una, diciamo la coda per l'ospedale rispetto a Milano, magari è sicuramente più agevole. Però insomma, ora che uno fa l'accettazione, insomma, torna alle 4 del mattino a continuare il concerto. Era un po' troppo. Era impossibile, era impossibile. E viva la moquette sui palchi. Il velluto vogliamo il prossimamente. Se ti piace UnControl, seguici su Instagram, ci trovi come UnControl-Podcast. Se sei un artista, un manager o un ufficio stampa e vuoi proporti per un episodio, non esitare a inviarmi un messaggio sempre su Instagram. Se vuoi sostenere questo podcast, che si autofinanzia interamente, cercami su tpi.com, si iscrive con tre E. Anche se con un contributo minimo, potrai aiutarmi a far crescere UnControl, permettendomi di dedicargli tutto il tempo che merita. Ti ringrazio e ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di UnControl. Grazie a tutti.